e ti saluto con la pace del signore e ti auguro un buongiorno buona giornata oggi mercoledì 25 di ottobre 2023 sia benedetto in nome del signore anche oggi perché ascolteremo ancora una volta la sua meravigliosa parola che dice proprio così io gesù ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo non prego che tu li tolga dal mondo come tu hai mandato me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo questo testo lo puoi trovare nel vangelo di giovanni capitolo 17 i versetti che vanno dal 14 al 18 il titolo di questo messaggio è questo fede e persecuzione le parole del versetto di oggi fanno parte della meravigliosa preghiera che il signore gesù ha rivolto al padre in favore dei suoi i discepoli non solo i dodici ma anche tutti quelli che non lo seguivano regolarmente lo conoscevano e lo amavano ma nella loro mente nei loro cuori restavano ancora delle zone d'ombra ci vorrà la discesa dello spirito santo per confermare la loro fede e dare a loro così come a noi che crediamo in lui la certezza di tutte le promesse che il vangelo ci dà e il godimento di una conoscenza sempre più profonda del nostro salvatore ora grazie allo spirito i discepoli hanno acquisito anche un grande coraggio nell'annunciare la risurrezione del signore e la salvezza fondata sul suo sacrificio e lo hanno fatto con entusiasmo mettendo a repentaglio la propria vita pur sapendo che sarebbe stato duro predicare il vangelo in un mondo ostile che aveva rispinto persino il figlio di dio il signore li aveva preavvisati l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a dio faranno questo perché non hanno conosciuto né il padre né me ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta la loro ora vi ricordiate che ve le ho dette anche essi come loro signore non sarebbero stati conosciuti dal mondo e così infatti è avvenuto sono trascorsi secoli è cambiata la cultura c'è stato il progresso eppure ancora oggi in molte parti del mondo i credenti subiscono una persecuzione atroce spesso fino alla carcerazione e alla tortura ma che trionfo nelle parole dell'apostolo paolo quando elenca le afflizioni sopportate per il vangelo dei servitori di dio considerati come impostori eppure veritieri come sconosciuti eppure ben conosciuti come afflitti eppure sempre allegri come poveri eppure arricchendo molti come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa e tutto questo grazie all'amore per il signore e alla trasformazione interiore operata dalla fede questo è quello che noi sperimentiamo ogni giorno e questo è quello che sperimenteremo sempre chiesa del signore mi rivolgo a te sarai perseguitata sarai oltraggiata sarai invasa sarai trascurata sarai delusa sarai attaccata sarai cercheranno di fare qualsiasi forma di male nei tuoi confronti solo perché sei chiesa ma io ti voglio incoraggiare e mi voglio incoraggiare con le parole del signore nostro gesù cristo che lui stesso disse neanche le porte dell'ades ti potranno vincere perché io edificherò la mia chiesa la mia chiesa la chiesa è di gesù e la sua personale e la sua sposa quindi lui dice che io la edificherò io ti proteggerò io ti educherò io ti insegnerò io ti trasformerò io ti proteggerò io ti aiuterò io ti porterò lì dove dovrai andare io sono il tuo dio questo è quello che dice gesù alla chiesa e quindi ti voglio incoraggiare e mi voglio incoraggiare con queste frasi perché questo ci danno coraggio e forza per andare avanti quindi fratello sorella coraggio spera nel signore resiste combatti affronta ogni cosa sapendo che gesù ha detto io ti edificherò amen dio ti benedica buona giornata e ci vediamo domani pace di gesù cristo